Ciao a tutti, oggi faremo una mappa Eccola qua, sono qua Matteo Oh, adesso ragazzi Eccoci, eccoci Oh ragazzi, livello 2 Livello 2 ragazzi Livello 2 Non vuoi essere così brava Ma sono a livello 3 Eccoci, eccoci qua Sono morta Allora ragazzi, sono morta Dai, non morire No, no, muoio sempre No Voi mi dite se volete un altro video Delle mappe di un parkour con Matteo Livello 4 No Ok Ciao a tutti Allora, facciamo una cosa, vi faccio così. No, ragazzi, e non ce la faccio, e non ce la faccio, ce l'ho fatta ora. No, ragazzi, e non ce la faccio così. No, ragazzi. Se continuiamo così, non lo faremo mai. Sì, va bene. Adesso tutti voi potrete vedere la canzone di Marshmello. Intanto non la potete sentire. Ragazzi, come è la canzone? Io vi dico il concept della mappa, dove c'è la voce scritta. Ragazzi, vi dico il concept della mappa, 3, o se ne avete mai, 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 o se ne avete mai. Il concept 8, 2, 4, 5, 0, 7, 9, 4, 7, 7, 4, 7. Ora che avete sentito il numero, potrete sentire la canzone quando volete. Pupi! 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 Allora, Ok, i campi a usare la macchina e la macchina. E' meglio. Allora, poi, allora, facciamo la macchina e siamo. Allora, facciamo. 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 Grazie a tutti. 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 Il video è finito qui. Ciao!